Mister, partiamo dalla fine. Il dottor Gagliani, che anche a nome del presidente Berlusconi, ha ringraziato la squadra per questo terzo posto finale, che comunque garantisce un buon piazzamento nei play-off. Oggi c'erano delle piccole speranze e comunque il bilancio è positivo. Sì, sì, abbiamo fatto un'ottima stagione. È normale che tutti avremmo voluto concluderla oggi, però è un campionato, come abbiamo sempre detto, è stato un campionato difficile. Abbiamo, secondo me, avuto dei momenti belli, dei momenti meno belli, ma alla fine aver chiuso in terza posizione è comunque un risultato, un ottimo risultato. Adesso con la testa giusta e con la positività giusta affronteremo questi play-off con una posizione conquistata sul campo di vantaggio. Era un Monza a cui mancava solo il gol, fino poi all'espulsione, poi tanta sfortuna, due traverse, un gol fortunoso. Diciamo che oggi non è girata bene. Sì, non è girata bene. Diciamo che se anche avessimo vinto non sarebbe cambiata la nostra posizione. È stata una partita sfortunata, ma bisogna analizzarla per quella che è stata. L'abbiamo giocata bene e meritavamo sicuramente di andare in vantaggio. L'espulsione, logicamente, ha condizionato poi tutto e prendi un gol su una deviazione al primo tiro e quindi si è messa male. Però dobbiamo pensare a quello che di buono avevamo fatto in 11 contro 11, alla buonissima prestazione e alle cose positive che ci serviranno poi per affrontare i play-off. Domanda di Telenova. Il modulo con difesa 3 è la strada su cui proseguire anche per i play-off? Ma vedremo. Sicuramente è una carta in più che abbiamo. Abbiamo, a seconda dei giocatori che staranno meglio e che deciderò di impiegare durante i play-off, sceglierò se giocare a 3 oppure no. Perché alla fine la cosa importante non è il sistema di gioco che utilizzi, ma sono i concetti sui quali giochi. Perché noi, giocando a 3, a 4, in un modo o nell'altro, non snaturiamo il nostro credo. Cerchiamo sempre di avere la nostra mentalità che deve essere quella di cercare di giocare a calcio. E carta canta web che dice la sensazione che ora il Monza si può togliere il peso di squadra favorita a affrontare i play-off con la giusta determinazione. Ma no, non è vero perché questo ce l'avremo sempre addosso, ce l'avevamo dalla prima giornata, l'abbiamo sempre avuto e lo sappiamo. In alcuni momenti è pesato, in altri siamo stati bravi a sopportare tutto questo peso. Però io penso che i ragazzi abbiano disputato comunque un'ottima stagione, una stagione molto particolare.